Tutto pronto per la seconda edizione di Valle Foglia Challenge, l'evento che si svolgerà il 7 e 8 settembre presso il Pala Dionigi e le aree antistanti. Due giornate dedicate allo sport con tanti appuntamenti da non perdere, come quello di sabato pomeriggio alle 17.30 con Gaia Giovannini, oro olimpico nella Palavolo a Parigi 2024. Ci sarà la premiazione di Gaia Giovannini sabato alle 17 che ha portato Valle Foglia negli scenari internazionali grazie alle sessioni sportive, in questo caso anche Megabox che ovviamente ha contribuito a battere gli americani che di questi tempi è un onore per l'Italia e lì fu citata anche Valle Foglia. Un evento importante per un comune che negli anni ha dimostrato grande attenzione verso lo sport con l'ampliamento del Pala Dionigi senza dimenticare il Palavitri e il Palafoglia Sesto On The Day. Abbiamo inaugurato oramai tante attrezzature sportive nuove, ho citato due palestre, la Palavitri a Montecchio e la Palafoglia Sesto On The Day a Bottega, due strutture importanti. Stiamo facendo il più grosso investimento di questi dieci anni nel Palazzetto dello Sport per consentire a Megabox oggi portando a 10 metri e a 1500 posti per fare i campionati italiani, i campionati europei di pallavolo e di pallacanestro. Quindi investiamo sul futuro, investiamo sui giovani grazie alle società sportive che sono tantissime. Nel programma dell'iniziativa tornei, presentazioni, musica e spettacoli, Valle Foglia Challenge vuole essere una vera e propria vetrina per lo sport del territorio dove bambini e adulti potranno mettersi in gioco in tantissime discipline sportive. Pallavolo, basket, ciclismo ma anche sport acquatici, ginnastica e tornei di calcio, il tutto dalle ore 10 alle ore 22. Allo sport poi verrà unito anche il tema del sociale e dell'ambiente come nel caso del plugging, una passeggiata salutare raccogliendo rifiuti per aiutare il territorio e il pianeta. L'evento giunto alla seconda edizione è stato realizzato grazie alla collaborazione con numerose società sportive del territorio. Dalle 10 di mattina alle 10 di sera del sabato e domenica ci sarà spazio in un'area ampia, quella dove si svolge il mercato a Montecchio, insomma a fianco agli impianti sportivi più importanti del territorio. Ci sarà spazio per tante discipline sportive, quindi invitiamo i ragazzi e le famiglie a partecipare e a visitare questi due giorni importanti di sport per il territorio. Grazie.